Cene, drink, concerti, DJ, giochi per i bambini e divertimento per i più grandi. È da poco iniziato il mese di luglio e a Vallefoglia si respira già l'aria di notte bianca. La White Night 2023 è pronta ad accendere il suo animo divertente sabato 15 luglio dalle 19 a notte fonda. Tutta Vallefoglia sarà coinvolta. Una festa on the road che partirà da Montecchio fino ad arrivare a Cappone, passando per Bottega e Morciola. Saranno circa una trentina i locali e i negozi che per l'occasione resteranno aperti, regalando vitalità ad una manifestazione diventata ormai tradizione. Siamo all'incirca sulla trentina di attività. Poi quelle ufficiali che propongono intrattenimento e propongono cibo e cene a tema, quelle sono già incluse in queste, ma ce ne sono tante altre che non sono scritte a cartellone che terranno aperto per la possibilità che c'è in questa serata di poter stare aperti con il commercio. Come nelle precedenti edizioni, il bus navetta sarà a disposizione dei partecipanti dalle ore 19. I due mezzi collegheranno per tutta la notte gli spazi degli eventi con 10 fermate spalmate sull'intera aria. Si riconferma l'utilizzo degli autobus navetta, quindi i due white bus che collegheranno la festa. È fondamentale sia dal punto di vista della sicurezza, ma anche dal punto di vista della fruibilità dell'evento, perché poter fare tre chilometri di tracciato in tranquillità su un autobus che mi ferma ad ogni evento, secondo me è uno dei punti di forza di questo evento. Le persone sembrano molto interessate all'iniziativa di quest'anno, c'è un buon riscontro anche in termini di informazione, stiamo a vedere, speriamo e siamo sicuri che sarà una buona edizione. Secondo me quest'anno riuscirà molto bene perché si è ritornati alla normalità e Valefoglia c'è oramai su tutte le questioni principali quotidianamente, è un territorio molto vivace e quindi le sue attività, diciamo, di enogastronomiche, di divertimento, musicali, le attività anche, ci sono tre attività di pubblici spettacoli che possono fare musica fino alle 3-4 di notte, compatibilmente con quelli che devono anche dormire. e speriamo soprattutto che ci sia attenzione perché non succeda nulla, insomma, che quando gira tanta gente bisogna sempre avere quell'attenzione necessaria.